Siamo qua nei bagni Molo, dal mitico Gianni il bagnino per eccellenza l'epicentro della terapia alassina nel senso che qua ci ritroviamo ogni giorno per fare il bagno al mare, questo perché Gianni? Perché è bellissimo, perché ci mantiene giovani e perché abbiamo la fortuna di vivere in questo meraviglioso posto, in questa bellezza infinita. Senti ma tutti, tutti possono partecipare? Certo che possono partecipare. Quelli di Milano, di Torino, di Napoli, di Verona, che ne so, tutti possono venire. Cosa devono portarsi? Il costume? Un costume. Un costume, vero, pecolino, e poi? E poi se stessi, qualche bella ragazza se c'è. Ci tuffiamo? Adesso. Vai col tuffo? 3, 2, 1, via! Ciao! Tutto questo è possibile solo ad Alassio, 10 di gennaio. Solo ad Alassio. Alassio tutto l'anno. Tutto l'anno! Questa è la meraviglia del mare di Alassio. Questa è la paia del sole e noi qua dimostriamo che facciamo il bagno, realmente, tutto l'anno. Con la muta o senza muta? Carogianni, complimenti. Anche oggi vi ho fatto un bagno speciale. Dove? Dove? Bagni muolo! Ad Alassio! Ad Alassio! E voi a casa a soffrire! Bravi! Vite qua, vite qua, vite qua. Ciao! Ciao!